Musica Lei è favorevole alla legge sulla cittadinanza per i figli degli immigrati nati e cresciuti in Italia? Nati e cresciuti in Italia, sì. Sì, anche io penso che sia un'ottima opportunità anche perché abbiamo bisogno di italiani nuovi, siamo in tasso negativo e quindi abbiamo bisogno di questa ricchezza. Se ci aspettiamo che qualcosa da loro dobbiamo anche investire e far sì che il processo di cittadinanza non passi attraverso la questura, poi quando si hanno 18 anni e si è nella piena ribellione, ma passi attraverso la possibilità che hanno tutti, come in Francia, come in altri posti del mondo. Super favorevole, a condizione che abbiamo fatto scuole italiane, eccetera, eccetera. Super favorevole. Favorevole senza altro. Nati e cresciuti in Italia, sì. Credo di sì, anche perché frequentano le nostre scuole e quindi è bene che l'inclusione non sia solamente scolastica, ma sia anche, diciamo, legale e che possa permettere a questi ragazzi di sentirsi cittadini italiani, così come gli insegniamo nelle nostre scuole. Nati e cresciuti in Italia, sì, sono favorevole. Favorevole. Sì, perché no, se sono tutte in regola, se rispettano i genitori le nostre regole, perché no. L'importante è che però accettino le nostre regole, il nostro modo di essere, la nostra religione soprattutto e poi tutto è possibile. Sì, perché no, però che abbiano tutti, non solo i diritti, ma anche loro i loro doveri, come ce l'abbiamo tutti noi. Grazie. Grazie a tutti.